Essere adolescenti, giovani e nel contempo essere detenuti. Da qui è partito padre Gaetano Greco, cappellano, dal 1981 del carcere minorile di Casal del Marmo di Roma, nel suo intervento al workshop organizzato da Cattolica Assicurazioni a Verona Fiere. Il carcere minorile è un mondo dove mai, come in questi ultimi anni, serve scommettere, serve operare misericordia attraverso progetti concreti dove è necessario avere il coraggio di volersi impegnare. Al di là di occhi a volte vuoti, a volte violenti, a volte velati da uno strazio sconfinato, risultato di infanzie difficili, bisogna, ha affermato padre Greco, avere l'ardire di voler conoscere e azzardare percorsi di speranza per questi ragazzi fragili ma forti, capaci di avere voglia di un futuro. Cosa vuol dire misericordia verso i più deboli, verso i ragazzi che vivono un'esperienza così? Nella mia realtà, in quella realtà credo che anzitutto essere attenti alle fragilità che portano con sé i ragazzi. Già un ragazzo di per sé è fragile e quindi è una realtà che va trattata con delicatezza e con attenzione. Poi in quella realtà ancora più attenzione perché i rapporti non sono facili da stabilire in una prima fase ma poi successivamente diventano le persone più simpatiche, più forti, più coraggiose, più che hanno voglia di vivere e di vivere nel modo migliore. Cosa vuol dire quindi questo giubileo per questi ragazzi? Per me per questi ragazzi significa quello che... Grazie.